Non accenna a migliorare la situazione in Alta Valmarecchi, un grande quantitativo di neve circa un metro, difficoltà alla circolazione e anche la pulizia delle strade fatica ad essere realizzata proprio per le difficili condizioni atmosferiche. La prefettura di Rimini ha vietato la circolazione ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in strada e autostrada, proprio a causa delle pessime condizioni stradali e del non adeguato assetto di alcuni mezzi sulla Marechiese. All'altezza di Secchiano un mezzo pesante e un autobus si sono intraversati, si sono creati ingorghi e difficoltà per la circolazione, il personale ANAS e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la carreggiata e ripristinare la regolare circolazione. La polstrada invita a non impegnare la via Marechiese da e per Nova Feltria. Le scuole rimarranno chiuse oggi e domani in attesa di un assestamento della situazione. In Val Marecchia abbiamo problemi e tentiamo a tenere aperte le strade. Ripeto, l'E45 l'hanno dovuta chiudere proprio perché non si riusciva a tenere aperta e se continua così ci sono pericoli anche per la Marechiese. Tra l'altro volevo segnalare come protezione civile che siamo attivi anche per portare soccorso eventualmente a persone che sono isolate in casa, sempre in Val Marecchio ovviamente, quindi possono chiamare tranquillamente la protezione civile e noi mandiamo dei mezzi che sono operativi. La protezione civile ha istituito un numero verde 800 422 233 operativo 24 ore su 24.